Capisco, allora dobbiamo solamente trovare questa distorsione degli eventi Per fortuna che quella borsa che tenevi nascosta è ancora intatta Forse riusciremo a trovare un articolo simile se entriamo nel database dei Princeton Vediamo un po' Eccolo qui E poi un dettaglio in più L'introverso Antonio, la mattina del suo arresto, cantava una canzone Questa È assurdo, era questo il tuo piano Se dovesse succedere una cosa del genere Non è possibile